Rimane il vantaggio invariato sulla Juventus, questo è un dato molto importante. Invariato perché lei consiglia la vincente, la giude dentro il dita? Potenzialmente la Juventus è ancora a 4 punti, l'importante era vincere noi, poi vediamo cosa fanno loro. Non è questione di reagire, ha continuato a fare quello che faceva nel primo tempo, con la voglia di ribattere i risultati, i ragazzi sono stati molto bravi. C'è un nuovo infortuno? E' un rischio che mi sono preso e sapevo di quello che andavo in conto, però ho già parlato molto importante. E adesso come inizia? E vedremo, ci penseremo a dopo domani. Volevo sapere, Gagliani ha detto che non era uguale alla partita contro l'Udinese, perché comunque fosse andata a finire il Milan sarebbe remesso prima in classifica. Però mi sembra che i giocatori abbiano festeggiato il 2-1 proprio come la svolta di Udine a dieta di Gagliani. E' normale, anche perché abbiamo vinto una partita difficile contro una buona squadra e abbiamo mantenuto il vantaggio di 4 punti.